stasera cosa mangiamo? stasera cosa si mangia? cosa mangiamo? faccio da mangiare io? no no stasera faccio da mangiare io tavolette? pollo? carne? tortellini in brodo? una pasta asciuttina? tu cosa vuoi? vuoi la carbonara? e facciamo il pollo manca l'aglio vado a comprare l'aglio ho fatto l'aglio metti via le robe qua metti via ora sono tutti fuori che cucino via via non c'è mai nessuno che mi aiuta qui a tavola a tavola a tavola a tavola a tavola com'è? buono certo ho mangiato troppo